Buongiorno, siamo Grazia e Lella e insieme formiamo Lingua di Polvere. Siamo una coppia nella vita e nel lavoro e viviamo nella bellissima isola di Fuerteventura. Qui abbiamo creato questa attività che si chiama Lingua di Polvere. È un'attività di social media manager, blog e ovviamente questo canale YouTube che si chiama Lingua di Polvere. Alcuni di voi ci conoscono perché si sono iscritti e gli iscritti in maniera simpatica li abbiamo chiamati granellini per ricordare che nasciamo polvere, moriamo polvere e nel mentre possiamo diventare tutto. Abbiamo un canale abbastanza variegato. Di solito la domenica facciamo questi video paesaggistici dove vi portiamo un po' in giro per la magnifica isola di Fuerteventura per scoprire ciò che chiamiamo Paradisi nel Paradiso. E poi durante la settimana uno o al massimo altri due video. Alcuni sono dei veri e propri sketch comici dove impersonifichiamo un po' dei ruoli, degli stereotipi, degli archetipi. E altri invece sono dei video dove facciamo con voi, con i granellini, alcune riflessioni così sulla vita. È un canale semplice, l'abbiamo definito il canale della felicità perché è un canale dove non ci sono polemiche e mai ne vorremo, dove cerchiamo di metterci solo il nostro meglio. Un grande contenitore creativo pieno di bellezza. Ma a tutto questo si è aggiunto qualcosa. Sì, abbiamo deciso di creare in questo canale una sezione che chiameremo Oltre Fuerteventura. Abbiamo già messo il primo video di questa sezione e lo trovate in Oltre Fuerteventura Second End di Trieste. Cos'è questa sezione? È una sezione dedicata a chi non è a Fuerteventura. E in modo particolare stiamo cercando proprio te. Te che ci stai guardando. Tu che sei in Italia. In pratica cerchiamo 100 attività. Il nostro invito è rivolto a te che sei in Italia, in un qualsiasi posto dell'Italia, e che hai fatto della tua grande passione il tuo lavoro. Potresti essere una partita IVA, quindi un autonomo, potresti avere una piccola azienda, potresti avere un locale, come ad esempio un ristorante. Potresti conoscere qualcuno che ami tanto, per cui nutri dei grandi sentimenti di ammirazione, e che pensi possa essere interessato. 100 attività da farsi avanti entro il 30 aprile. Hai tempo, ma non pensare di avere tutto il tempo, perché abbiamo veramente grandi progetti per lingua di polvere. Oltre a Fuerteventura è uno spaccato, che non riguarda solo le attività di questa magnifica isola, ma che riguarda l'Italia. Che cosa si tratta di fare nella pratica? È semplice. Basta che tu intanto ci contatti, e ci proponi di voler entrare in questa sezione del nostro canale YouTube. Come ci puoi contattare? In direct su Instagram, oppure alla mail Info, chiocciola, lingua di polvere, punto com, che è la nostra email aziendale. Esatto. Ci presenti la tua idea, e se è adatta al nostro canale YouTube, ci mettiamo in contatto, dandoti un numero italiano con WhatsApp. Basterà che tu faccia dei video, basta avere un semplice cellulare e metterlo in orizzontale, per fare delle riprese, e farci vedere quanto è bella la tua attività, il tuo pezzo forte. Magari sei un pizzaiolo, e vuoi farci vedere la pizza che è quella che secondo te è speciale, oppure vuoi farci vedere l'interno del tuo studio, oppure vuoi farci vedere, perché sei un autonomo, alcune attività. Potresti essere un cantante, un creativo, quindi un musicista, uno scultore. Non abbiamo limiti per quello che riguarda le attività, abbiamo però un limite di numero, perché il nostro lavoro non finisce solo con l'invio dei tuoi video sul nostro WhatsApp italiano. C'è sicuramente un lavoro di montaggio per far emergere al meglio il messaggio che ci vuoi mandare. Perché facciamo questo? Perché nonostante tutto quello che è successo e sta accadendo, noi siamo qua, abbiamo aperto un'attività, siamo piene di idee e ci crediamo. Abbiamo una forza che non riusciremo mai a trasmettervi con le parole, abbiamo determinazione e soprattutto abbiamo e stiamo impiegando, impiegheremo ogni nostra risorsa. Quindi guarda al futuro, adesso noi siamo un canale piccolino, però stiamo crescendo di giorno in giorno. Siamo nate due mesi fa. esatto e quello che ci contraddistingue è proprio la voglia di emergere, la voglia di crescere e chiunque abbia questo stesso desiderio in positivo è benvenuto tra di noi. Se hai fame, cogli questa opportunità. Noi siamo un grande carrozzone, guarda il futuro. Noi sappiamo che abbiamo tutta l'opportunità di poter crescere e soprattutto abbiamo tutto il tempo del mondo, anche perché vivendo a Fuerteventura la concezione del tempo cambia. Qui è tutto molto più lento e noi pian piano andremo veloci. Quindi entra in questa bella sezione di Oltre Fuerteventura, dici quanto è bella la tua attività, falla conoscere a tutti gli altri iscritti e a tutti quelli che ci seguiranno. Per ogni dettaglio, ripetiamo l'email infochiocciolalinguadipolvere.com è meglio ancora rispetto al direct. La trovate ovviamente nella descrizione del video. Per questo video ci sono tutti i nostri riferimenti, noi ci occupiamo di social media, pubblichiamo libri e abbiamo questo canale. Siamo ovunque, siamo soprattutto tanto attive su Instagram, dove sicuramente metteremo questo video, e ci trovi su Facebook e ci trovi anche su altri social, così che potrei farti un'idea di quello che facciamo. Ecco, per noi è stato un piacere, spero che coglierete questa opportunità. La data entro il 30 aprile non significa che inizieremo a raccogliere i video il 20 aprile. Chi prima arriva, meglio alloggia. Aggiungo solo quest'ultima cosa, che non abbiamo detto, non è necessario che il video sia tutto intero. Potete mandarci anche dei piccoli pezzettini. L'importante è che sia intorno ai 10 minuti, almeno. Se è qualcosa di più, non vi preoccupate. Meno di 10 minuti, credo sia un po' difficile presentare al meglio un'attività. Ma tutto parte dall'email, perché da quella poi scremeremo e ci sceglieremo. Speriamo di piacervi e speriamo di incontrare tante persone che hanno fatto della loro passione, come abbiamo fatto noi, il loro lavoro. Noi per oggi vi salutiamo, vi diamo un bacio. E a presto. Grazie. 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 Grazie.